ecco ha lasciato ha lasciato Buckingham Palace e quindi lo ha lasciato, ecco al Pongione, sono gli arrivi che si aspettavano sarà l'unico cantante che canterà The Candle in the Wind The Candle in the Wind, questa famosa canzone è stata composta ha ricomposto, ha riadattato la canzone che aveva scritto per Marilyn Monroe si, ovviamente riadattata per la principessa Diana ecco la musica era stata scritta nel 64, ecco George Michael, l'abbiamo visto, eccolo alla sinistra di Elton John sono i due cantanti rock più amati e più amici di Lady Diana il terzo era Phil Collins che ha però detto che non se la sente di venire in chiesa perché vuole mantenere privatamente, privato, assolutamente privato il proprio dolore dicevo che Elton John, questa presenza, non tanto la presenza ma quanto il fatto che Elton John canti è davvero lo strappo più grande al cerimoniale ricordiamo che la carità tutti rimangono seduti, Elton John canta The Candle in the Wind goodby 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 may you may you well grow in our hearts you are the grace that placed yourselves where lives were torn apart Grazie a tutti 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 Grazie a tutti